Diretta Ragazzi sono stanco morto, comunque l'articolo 4 della legge Cosa devo fare ragazzi? Comunque ragazzi, il messaggio che arriva dall'Italia che produce e che lavora è chiara Fate in fretta, niente inciuci, niente governicchi, niente accordi sotto banco Elezioni subito per avere un governo che per 5 anni lavora e ha le idee chiare Se per i 5 Stelle il problema era prima fare il taglio dei parlamentari Accettiamo la sfida, corriamo, settimana prossima tagliamo definitivamente 345 parlamentari E poi come ha ripetutamente detto Luigi Di Maio, subito al voto Se in quel caso la notte o la mattina di nascosto di segreto ci sarà un accordo Renzi-Grillo Lo spieghino agli italiani Fatuanelli dice ritirare la mozione Ma non siamo al mercato ragazzi, non siamo al mercato C'è un governo che era fermo, che litigava da mesi, che bloccava da mesi Ridiamo la parola agli italiani Chi ha paura delle elezioni? Se uno ha lavorato bene, convinto di aver lavorato bene, non ha paura degli italiani Capisco Renzi che invece... Ma lei ha avuto paura del... Non ho visto Berlusconi, ragazzi oggi... Domani non si voterà la sfiducia Perché c'è gente che la vuole tirare in lungo, però la posizione della Lega è chiara Tagliamo i parlamentari e poi subito al voto Lei ci va dal Viminale, ci va dal Viminale La legge prevede che la legge entra in vigore dopo cinque mesi E in caso di scioglimento anticipato delle camere La legge entra in vigore nella legislatura successiva Punto A meno che qualcuno non voglia tirare a campare fino all'estate del 2020 Però una manovra economica Renzi-Toninelli mi incuriosisce Detto questo, buon lavoro C'è un'altra manovra